attaccabili. Tutte e due le cose, nel senso che è uno schiaffo ai cittadini soprattutto in un momento come questo. Passatemi la battuta prosaica, hanno la faccia come il vitalizio, perché veramente in questo momento bisogna veramente non rendersi conto di niente, di dove sei, chi sei, uno resta sbalordito. Poi il secondo aspetto è che le cose bisogna farle bene, ma in Italia le cose non si fanno bene, ma non perché non siamo capaci di farle bene, perché c'è sempre un piano B, poi c'è un piano C e poi c'è un piano D. Cioè bisogna sempre lasciare aperta una possibilità per rivedere tutto. Insomma ogni tanto, ma noi lo vediamo, prima parlavamo delle stragi, lo vediamo con i processi, con le grandi tragedie che hanno colpito il nostro paese. Sono pochi giorni dell'anniversario di Ustica e infatti su Ustica si riapre giustamente tutto il libro di Ustica perché nessuno è convinto che le cose siano andate come la verità ufficiale ci ha detto. E così tutte le vicende hanno sempre un'uscita di sicurezza. Quindi questa storia dei vitalizi che sembrava, tutti quanti pensavamo che fosse definitiva, chiusa, non era definitiva perché c'è una porticina che è stata aperta e quindi i signori sono infilati. Io non lo so.